Cari ragazzi e care ragazze, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Oggi daremo qualche piccolo consiglio sul come scrivere una tesi o una tesina musicologica. E' giusto dire in apertura di questo video che si tratterà di un incontro abbastanza tecnico che vorrei dedicare tanto ai miei ragazzi del quinto anno del liceo musicale quanto agli studenti universitari e agli studenti dei conservatori per fornire loro qualche piccolo suggerimento. Non sarà pertanto il solito incontro divulgativo, ma probabilmente qualcosa di un po' più tecnico che potrebbe rischiare di annoiare chi non è specificatamente interessato all'argomento in questione. Nonostante questo, lascio al vostro giudizio, lascio aperta la possibilità a chiunque voglia seguirci di rimanere in nostra compagnia. Ovviamente il primo consiglio che mi sento di dare a tutti i giovani studenti è seguite pedissequamente le indicazioni del vostro relatore. E' lui il giudice ultimo di tutta la vostra attività ed è lui anche la vostra principale guida. Per cui prendete le cose che vi dirò semplicemente come dei consigli dettati dall'esperienza e non come regole fondamentali. Quindi, prima cosa, fidarsi del relatore. Detto questo, il nostro cammino nella scrittura di una tesi o di una tesina di argomento musicologico parte ovviamente con la scelta dell'argomento. L'argomento che sceglierete non dovrà essere né troppo risicato, perché altrimenti, capite bene, non possiamo scrivere più di due pagine, né troppo ampio. Scegliere c'è come argomento i compositori romantici, il romanticismo musicale, ci lascia davanti a un campo talmente aperto che se uno volesse fare un lavoro ben scritto e completo dovrebbe curare almeno 5-6 volumi dell'Enciclopedia Britannica, che ovviamente non è l'obiettivo che uno si pone quando scrive una tesi. Trovate pertanto un argomento abbastanza vasto da possedere letteratura di riferimento, abbastanza vasto da avere su che cosa scrivere, ma neanche troppo enorme per non trovarvi a dover trattare dell'universo mondo. Insieme a questo, valutate se l'argomento è un argomento troppo di nicchia. Potrebbe non interessare il vostro relatore, che sarebbe un peccato grave, non interessare la commissione che dovrà giudicare il vostro lavoro, e se è davvero troppo troppo di nicchia, chiedetevi se quell'argomento ha un effettivo interesse per la comunità scientifica. Viceversa, sull'altro punto di vista, non scegliete, se potete, argomenti troppo mainstream. Cioè, capite bene che se non avete davvero qualcosa di nuovo da dire, scegliere Beethoven come argomento o Mozart potrebbe risultare un po' scontato e vi potrebbe portare a scrivere qualcosa di un po' troppo banale. Valutate più argomenti, valutate sulla base del vostro reale interesse, questo sempre, valutate più piste, fate delle ricerche, e poi scegliete l'argomento definitivo. Una volta che avrete scelto l'argomento, il passo da fare sarà redigere un indice e una bibliografia di base. Questi due passaggi vi serviranno per mettere ordine nelle vostre idee e nel materiale che avete a disposizione come punto di partenza. Io vi suggerisco, ovviamente, la disposizione classica delle tesi, prevedo capitoli, paragrafi ed eventuali sottoparagrafi. Normalmente una tesi dovrebbe possedere almeno tre capitoli, almeno tre capitoli, e il mio consiglio è di distribuire sia la macrostruttura, quindi tre capitoli, sia il contenuto dei singoli capitoli, a imbuto, cioè partendo dal generale e andando verso il particolare, dove si può inserendo un caso di studio come poi punto di arrivo del vostro lavoro. La bibliografia di base, possedere una bibliografia di base, serve ad avere una solida fondamenta su cui costruire poi il resto del lavoro. Anche qui fidatevi, affidatevi e seguite le indicazioni dei vostri relatori. Terzo passo, una volta che avete fatto tutto questo, non vi resta che cominciare le ricerche e la scrittura. Fare delle buone ricerche, ovviamente, è fondamentale. Il primo passo è segmentare l'argomento che avete scelto e partire dalle enciclopedie. Può sembrare un passaggio banale, ma è bene farlo. Ovviamente che siano enciclopedie specifiche, scientifiche, non Wikipedia. Nel caso nostro, cioè nel caso di una tesina di argomento musicologico, i testi a cui potete rivolgervi sono il DEUM, il Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti della UTET, in italiano, oppure a tutte le pubblicazioni del Grove, New Grove Dictionary of Music and Musicians, Grove Dictionary of Opera, of Days, of Rock, of Pop, eccetera, se leggete il tedesco, ottima anche la MGG. Insieme a questo, ovviamente, ricercherete le fonti primarie, quindi spartiti, registrazioni sonore, e la letteratura musicologica, sia monografica, specifica sul vostro argomento, sia generica, sul periodo, sulle istanze culturali dell'epoca, e così via. Andiamo insieme a vedere alcuni pro, alcuni contro, di questi oggetti di ricerca che vi ho indicato. Ecco qua. Vedete, i pro delle enciclopedie sono sicuramente il fatto di avere un'informazione biografica sul compositore che vorrete trattare, succinta, chiara e di rapida consultazione, la sua produzione musicale, ovviamente organizzata in queste enciclopedie che vi ho citato in maniera appunto ben fatta, catalogata, avrete un inquadramento del periodo storico e, cosa più importante, le enciclopedie di settore vi forniscono già una bibliografia essenziale dalla quale potreste partire per le vostre ricerche. Ovviamente ci sono dei contro, potrebbero esserci problemi di aggiornamento, se l'enciclopedia che state consultando è stata pubblicata prima della data di morte di un compositore, l'enciclopedia non riporterà la data di morte e a voi risulterà che il morto è ancora vivo. L'altro contro è che nell'enciclopedia le informazioni sono un po' troppo concise, questo è chiaro, è evidente, si tratta sempre di un punto di partenza e non di arrivo. Per la ricerca invece delle fonti primarie andiamo a vedere, esistono tantissimi testi autorevoli a cui possiamo rivolgerci. Ecco, vedete, esistono fonti cartacee, di cui il re indiscusso è sicuramente il RISM, cioè il repertorio internazionale delle fonti musicali. Esistono i cataloghi tematici delle varie biblioteche, un patrimonio ricchissimo ricchissimo e sempre in nuovo aggiornamento. Esiste un testo ormai datato, che è il repertorio dei libretti di Carlo Sartori, se vi state occupando di opera lirica, è giusto andare a studiare anche i libretti. Esiste il RIDIM, che è anche online, che è il repertorio internazionale di iconografia musicale, spesso sottovalutato, ma per alcuni ambiti di ricerca è assai fondamentale. Online, al tempo in cui prendevo questi appunti, esistevano solo alcune serie del RISM, che però sono in rapida espansione, immagino che oggi ci sia quasi tutto online. Il catalogo delle biblioteche online, ovviamente, qui non lo trovate, ma c'è il bellissimo catalogo di internet culturale, che vi mette a disposizione tantissime fonti. Il repertorio Corago, che è un repertorio di libretti online, ovviamente Petrucci, Scrivd e quant'altro, potete trovare online. Vi ricordo, ovviamente, che quando si fa una ricerca di fonti primarie, bisogna andare a preferire sempre l'autografo, qualora esista, di un'opera, alle sue copie, e sempre prime edizioni, rispetto alle ristampe, qualora si tratti di pubblicazioni a stampa, appunto, e non manoscritte. Se decidete di usare il RISM, vi trovate a dover utilizzare il RISM, ricordatevi alcune caratteristiche. Il RISM è diviso in serie nella sua versione cartacea, la sua versione digitale è chiaramente di più semplice utilizzo, ma se vi trovate in una biblioteca che lo possiede cartaceo e volete consultarlo, ricordatevi che la serie A1 contiene le fonti a stampa individuali, che vanno dal 1501 al 1800, e sono indicizzate per autore. La fonte a seconda, invece, le fonti manoscritte, che vanno dal 1600 al 1800. La data più antica che possediamo è dovuta al fatto che la stampa musicale comincia appunto nel 500 e quindi più indietro di tanto non si può andare per chiari motivi di storia e della tecnologia. Le fonti manoscritte prima del 1600 difficilmente le conserviamo perché essendo copie d'uso spesso non le abbiamo, materialmente non le conserviamo, non esistono più. La serie B contiene le fonti a stampa miscellane fino al 900 in ordine cronologico perché chiaramente nel miscellaneo non c'è un autore di riferimento. E la serie C è un catalogo delle biblioteche e degli archivi musicali che esistono in Europa. Vi ripeto, la versione online della quale avete visto il link ormai è molto più user-friendly e molto più di rapida consultazione. Per quanto riguarda invece la letteratura musicologica, specifica e generica, anche qui abbiamo varie possibilità. Ecco, le vediamo insieme. In cartaceo esiste un corrispettivo del Risma che si chiama RILM, Repertorio Internazionale di Letteratura Musicale. Ci sono le riviste, ci sono i suggerimenti dell'enciclopedia e così via. È chiaro che ormai viviamo in un'epoca digitale in cui l'online è la versione prediletta. Esistono dei sistemi di spoglio delle riviste, spesso però a pagamento, come J-Store o Uncover. Vi ripeto, questi sistemi di solito prevedono un abbonamento, a meno che voi non vi troviate in un luogo che ha una biblioteca specifica dedicata alla musicologia, e pertanto di solito queste biblioteche hanno l'abbonamento e dei terminali autorizzati a fare le ricerche su J-Store. Esistono i periodici online, anche qui magari con un abbonamento, i cataloghi online delle biblioteche. Esistono sistemi, che qui appunto non riporto, come Accademia.edu, nella quale sono contenuti dei articoli volontari dei grandi musicologi d'Italia. Insomma, non manca il modo di trovare del materiale. Ovviamente la ricerca, come tutte le arti, ecco non dobbiamo vederla come una cosa troppo arida, come una cosa troppo scientifica, come tutte le arti, anche la ricerca vive un po' di fantasia e intuizione nel modo di recuperare i materiali. Ultimo passo, una volta che avete fatto la vostra ricerca, dovete comunicare i risultati in maniera chiara. E questo è il passaggio forse più complicato. Scrivete ovviamente in italiano chiaro, leggibile, ma questo va da sé in qualsiasi ambito. Per quanto riguarda la redazione del vostro elaborato, ovviamente attenetevi in maniera pedissequa alle norme che il vostro relatore vi indicherà. Io adesso vi darò alcune dritte che sono quelle più utilizzate, soprattutto nell'ambiente italiano, ma ripeto, il vostro relatore è sempre il giudice finale del lavoro. In generale cercate di scrivere la vostra tesi con un font, immagino che ormai tutti utilizziamo il computer, con un font che sia leggibile, chiaro ed elegante allo stesso tempo, per cui non preferite font come il Trebuchet o l'Elvetica, che sono molto leggibili, però certo, magari più adatti a una comunicazione digitale, per una pagina stampata, cercate una via di mezzo con un font che sia anche elegante. Immagino ad esempio il Times New Roman, molto utilizzato, o il Garamond, anche questo molto interessante, perché vi permette di risparmiare qualcosina di inchiostro, quindi una scelta anche un po' ecologica, se vogliamo. Sempre legato a questo, cercate di dare un'impostazione ariosa al vostro testo. Se l'università ve lo richiede, stringete un po' i margini della pagina, scrivete con un'interlinea ampio, nelle tesi normalmente si utilizza almeno uno e mezzo di interlinea, io quando scrivo una cosa che deve essere poi stampata e letta, non uso mai meno di 1.15 di interlinea, proprio per dare spaziosità, aria al nostro testo. Usate anche con criterio i grassetti, che dovreste limitare ai titoli dei paragrafi e dei capitoli, e dei sottoparagrafi a tutt'al più, e il corsivo che utilizzeremo soltanto per i titoli delle opere, musicali o letterarie che siano, e alle parole straniere che non sono entrate nell'uso comune della nostra lingua. intendo che se dovete scrivere ho visto un film, film, pur essendo una parola inglese, ormai è talmente radicato nell'italiano che non necessita di essere scritto in corsivo. Ecco, possiamo tranquillamente scriverlo in tondo. Se invece mi trovo a scrivere Klangfarbe e Melodie, che è una parola tedesca che in italiano non useremmo, la posso scrivere in corsivo. Qualora nel vostro testo, nel corpo del vostro testo, voleste fare una citazione diretta di un testo di qualcun altro, perché pensate che meglio di così non lo si può esprimere, quindi non volete rielaborarlo, ma volete restituirlo esattamente come l'autore ce l'ha porto, potete farlo, anzi è giusto che lo facciate, ma dovete isolare la citazione, renderla subito visibile. Questo va fatto attraverso degli espedienti grafici, primo di tutto rimpicciolire il testo. Se avete usato un font a dimensione 14-13 per il corpo, la citazione diventerà con carattere 12-11. L'interlinea si rimpicciolirà, passerà a 1, e oltre a isolare e staccare da sopra e da sotto la citazione, dovrete anche stringere i margini a di almeno 2 cm a destra e 2 cm a sinistra, proprio per isolare la citazione e renderla subito visibile al lettore. Se il passaggio che state citando non è preso per intero dal testo originale, ma in mezzo mancano delle parti, utilizzerete le parentesi quadre con i tre puntini, tre puntini all'interno, tre puntini all'interno, per intendere che lì manca, c'è un omissis. Non serve metterlo all'inizio e alla fine, perché è chiaro che state strapolando la citazione da un contesto più ampio. Le citazioni vanno riportate sempre in lingua originale. Qualora le vogliate inserire tradotte, dovete indicare bene chi è il traduttore, a quale edizione tradotta vi state riferendo. Alla fine della citazione dovrete creare una nota a piedi pagina nella quale esplicitare con chiarezza e univocità qual è la fonte dalla quale voi state citando. Come si fanno le note a piedi pagina? Immaginiamo di star citando un frammento che proviene da un testo, da un libro. Andiamo a vedere alcuni esempi. Ecco qui. Come vedete, utilizzeremo un testo fasullo che non esiste. La prima stringa, la A, proviene da un libro. Immaginiamo che io stia citando da un libro che contiene solo il mio testo. Nella versione B, nell'esempio B, C, invece, immaginiamo di star citando un testo che proviene da una miscellanea, quindi si tratta di un articolo inserito in un volume che contiene articoli di vari autori. Nell'esempio C, invece, stiamo immaginando di citare un articolo proveniente da una rivista, da un periodico. Quando cito un libro, un testo monografico, metterò nome e cognome dell'autore, Ferdinando D'Urso. Posso scriverli così, posso scriverli nome in minuscolo e cognome in maiuscolo, oppure tutto in maiuscoletto. Poi c'è il titolo, e l'eventuale sottotitolo, del nostro libro in corsivo. Puzzare di birra, La musica nei pub di Catania. Dopodiché metterò l'editore, Zanichelli, La città e l'anno di pubblicazione, Bologna 2021, e la pagina o le pagine che sto citando nel mio testo. Ricordatevi di inserire le pagine, non sono facoltative, sono obbligatorie. Se invece questo testo fosse inserito in una miscellanea, come vedete, l'inizio della stringa è la stessa, aggiungiamo soltanto IN, col titolo della miscellanea, Riascoltare la città, a cura di, in copallino, cioè il nome del curatore dell'intero voluto. Se si trattasse invece di una rivista o di un periodico, io metterei sempre il nome e cognome dell'autore, il titolo in corsivo dell'articolo, poi IN, il nome della rivista, tra virgolette basse, che indicano appunto che si tratta di una rivista, Musica della Sera, l'annata, i numeri romani, e il numero di quell'annata, invece i numeri arabi, quindi quindicesima annata, numero due, e poi la data più precisa possibile della pubblicazione. Se si tratta di una rivista che esce una volta all'anno, chiaramente ci metterò solo l'anno, se è un periodico, la data esatta da pubblicazione, 27 settembre 2021, e sempre la pagina a cui ho preso quell'informazione. Ovviamente, all'interno della mia tesi, io potrei tornare a citare gli stessi libri, gli stessi autori, e in questo caso farò così. se io torno a citare nella nota immediatamente successiva lo stesso testo, potrò utilizzare l'abbreviazione IBI se si tratta dello stesso libro, ma cambia la pagina, per cui IBI vuole una nuova pagina, vuol dire qui in latino, IBI. Quindi, qui, con una nuova pagina, se invece si tratta dello stesso testo, alla stessa pagina, potrò utilizzare l'abbreviazione IBID, l'abbreviazione dell'espressione latina IBIDEM, cioè esattamente la stessa cosa. Se invece io voglio citare un testo che ho citato in note precedenti, quindi non in quella immediatamente precedente, potrò, a mia sua volta, abbreviare ancora, mettendo il nome e cognome dell'autore, il titolo, senza gli eventuali sottotitoli, e poi aggiungendo OPCHIT, cioè opera citata, e la nuova pagina che voglio indire. Può invece capitare che io non voglia citare esattamente, testualmente, un testo, ma mi voglia riferire a un testo che ho letto per rafforzare un contenuto che sto esprimendo. In quel caso, potrò fare precedere nella mia nota alla stringa bibliografica l'espressione CFR, che è l'abbreviazione di CONFRONTA, per intendere che quel testo io non lo sto citando direttamente, ma mi voglio semplicemente riferire a esso, per essere precisi. Alla fine, della mia tesina, della mia tesi, io inserirò evidentemente una bibliografia, cioè l'elenco di tutti i testi che ho citato e che ho utilizzato per il mio studio, messi in ordine alfabetico per cognome dell'autore. La bibliografia potrà essere corredata da una sitografia, evidentemente, con i siti internet, e se serve, da una audio o videografia, qualora io abbia utilizzato dei sistemi multimediali di appoggio. Oltre al sistema che vi ho descritto, potete scegliere di utilizzare un modo per indicare l'origine delle vostre citazioni, cosiddetto all'inglese o all'americana. Funziona così, voi mettete le stringhe bibliografie complete solo in bibliografia e poi a ognuna di queste aggiungerete una sigla identificativa. Vediamo il nostro esempio. Ecco, vedete, la nostra solita stringa viene corredata dalla sigla DUR 2021 che, messa fra parentesi quadre e io direi sempre aggiungendo la pagina, può essere inserita nel corpo del nostro testo, quindi senza fare note a piedi pagina per indicare l'origine delle nostre citazioni. Chiaramente questo sistema costringerà il lettore ad andare continuamente in fondo al nostro volume piuttosto che abbassare lo sguardo e leggere l'origine della citazione direttamente al piedi pagina. Scelte, anche qui, fatevi guidare dal vostro relatore. Bene, nella speranza di essere stato chiaro di non avervi annoiati per quanto l'argomento fosse così tecnico e forse un po' arido, vi auguro un buon lavoro per la redazione dei vostri lavori di tesi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie! 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 Grazie!